Eccoci, ciao a tutti! Oggi è un grande giorno perché ufficialmente sono aperte le iscrizioni della nostra scuola portieri che verrà fatta il lunedì a Munvico e venerdì a Cassinone. Non vedo l'ora di condividere questa emozione con voi e provare a trasmettervela sul campo. Vero Dario? Grazie Michael! Ciao a tutti aspiranti portieri! Da Bergamo a Kaunas, dall'Italia alla Lituania riparte il nuovo progetto di scuola portieri più affascinante, più coinvolgente, più completo. Un unico metodo, un'unica strada, un unico sogno. Saga goalkeeper Michael Ragazzi e Portier. Vi aspettiamo! Ciao!